Ciao e benvenuti in questo mio secondo video tutorial su Creo Parametric 11. Come ribadito, tutto quello che vi mostrerò in questo video tutorial è sostanzialmente identico anche nelle versioni precedenti di Creo Parametric 11. Se ci saranno le differenze ve le sottolineerò e ve le indicherò chiaramente. In questo video parleremo del comando estrusione, che è un comando molto molto importante, che si utilizza normalmente per una percentuale che va dal 60% all'80% nella costruzione di ogni parte che dovremo appunto modellare. Prima però di iniziare volevo sottolinearvi il fatto che ho cambiato la visualizzazione del mio puntatore del mouse per renderla più comoda e fruibile anche sugli schermi più piccoli come quelli di uno smartphone. Quindi in questo caso ho eliminato la visualizzazione simbolica del mouse e ho lasciato una visualizzazione mediante dei cerchi colorati che mi evidenziano i click con il tasto sinistro in rosso, i click con il tasto centrale in verde, i click con il tasto destro in blu, ma rimane comunque la visualizzazione mediante una grafica esterna dei tasti funzionali, CTRL, ALT e SHIFT e via dicendo, nonché rimane anche una visualizzazione di eventuali combinazioni di tasti, ad esempio in questo caso CTRL più D. Il comando estrusione è un comando molto importante che è bene conoscere in tutte le sue sfaccettature. Andiamo sulla scheda modello, come vedete ho già fatto una parte, e avviamo il comando estrusione che è ben in evidenza all'interno della ribbon bar modello, che è diciamo la più importante che possiamo trovare all'interno appunto di una parte. Clicco su estrusione e quindi vado a scegliere un piano di sketch, in questo caso scelgo il piano top. In questo modo ho la possibilità di creare su questo piano uno sketch. Come informazione aggiuntiva vi dico che qualora non vi piaccia la visualizzazione 3D, potete eventualmente decidere con questo tasto di orientarvi sul piano di sketch. Possiamo anche spengere piani se ci danno fastidio, e in questo caso prendo il comando rettangolo centrale, che devo dire è un comando molto comodo che si utilizza frequentemente. Vado a disegnare il mio rettangolo facendo semplicemente due clic, uno al centro e uno per il posizionamento di un vertice. Tasto centrale, che serve a confermare e a chiudere il comando rettangolo per ritornare sullo strumento di selezione, vado poi a cambiare le quote che mi si presentano con dei valori che mi possono far comodo. Ovviamente vedete anche a schermo il fatto che una volta che ho digitato il valore lo vado a confermare con il tasto invio che viene visualizzato con la voce return sullo schermo. Lo sketch è completo, confermo lo sketch con il segno di spunta verde, e quindi ritorno in un'ambientazione tridimensionale dove già vado a vedere quella che è l'estrusione del mio sketch. L'estrusione può essere gestita in maniera dinamica direttamente dallo schermo, ad esempio aumentando o diminuendo la profondità, oppure posso cambiare il valore agendo direttamente sulla quota. Posso invertire il verso di estrusione agendo su questa freccettina viola che troviamo al centro del nostro sketch, ma la stessa orazione la posso fare anche dalla dashboard dell'estrusione, quindi dal cruscotto dell'estrusione. E queste sono alcune delle possibilità che io ho all'interno di questo comando. Posso anche decidere di fare un'estrusione solida, come già in questo momento, oppure di superficie, quindi senza uno spessore vero e proprio, ma con uno spessore infinitesimale, quindi zero sostanzialmente. Posso ritornare all'estrusione solida e decidere di fare un'estrusione in cui vado ad aggiungere uno spessore allo sketch, spessore che poi posso cambiare agendo su questo valore. Ricliccando qui disattivo il discorso dello spessore e ritorno a un'estrusione solida piena. Altro aspetto importante è che posso andare a decidere quella che è la modalità che sono le opzioni possibili in questo caso per la profondità di estrusione. Posso fare un'estrusione simmetrica, posso fare un'estrusione variabile come in questo caso, oppure simmetrica, oppure fino a un riferimento che dovrò andare a selezionare. In questo caso mi accotento dell'estrusione simmetrica, che in genere è l'operazione che cerco di fare sulla mia prima funzione di modellazione. Cerco di creare una geometria il più simmetrica possibile rispetto ai piani di riferimento disponibili. Altro aspetto importante che si può gestire con l'estrusione è quello di poter fare un'estrusione con uno sformo, quindi aggiungendo una conicità che vado a trovare dal menu opzioni all'interno del cruscotto dello stesso comando estrusione, vado a dirgli aggiungi conicità. Aggiungi conicità appunto mi consente di fare un'estrusione che però presenta le facce laterali ruotate ed inclinate di un certo valore angolare che posso ovviamente cambiare, in questo caso a dare un valore un pochettino più basso. ovviamente lo sformo avverrebbe intorno allo sketch e quindi la rotazione delle varie superfici laterali avviene unicamente intorno allo sketch che ho disegnato. Quindi lo sketch stesso fa da cerniera di sformo. Ok, se l'estrusione così definita per me è l'obiettivo che volevo raggiungere posso semplicemente confermare. Faccio un control D per ritornare alla visualizzazione di default, all'orientamento di default. Ripeto un'operazione simile sempre di estrusione in questo caso partendo da questo piano di sketch che vado a selezionare. in questo caso utilizzo un altro comando sicuramente molto utile che è ovvero il comando cerchio all'interno dello sketch. Piazzo il centro con un clic definisco in maniera approssimativa il diametro con un secondo clic e poi faccio un tasto centrale per confermare la definizione del cerchio uscire dal comando e ritornare sullo strumento di selezione ovvero questo all'interno dello sketch. Questo fa anche sì che le quote mi vengano mostrate le quote necessarie per vincolare la geometria mi vengano mostrate e eventualmente le posso andare a cambiare. In questo caso direi posso dargli un valore più tondo quindi un 200 mm. A questo punto anche qui ho completato lo sketch per quanto molto semplice lo confermo posso decidere o da qui o da qui di invertire l'estrusione Crevo capisce in questo caso invertendo l'estrusione che è più probabile che io voglia fare un'operazione di taglio quindi premio automaticamente il tasto asporta materiale e vado a decidere quella che è ad esempio la profondità di estrusione posso dargli una profondità di estrusione leggermente maggiore rispetto allo spessore della prima estrusione che ho fatto in realtà non è la cosa più corretta da fare è sempre consigliabile andargli a dare un'estrusione se voglio tagliare tutto lo spessore della prima estrusione è preferibile dirgli da qui attraverso tutto sappiate comunque che se invece voglio fare un'estrusione ad esempio un taglio con una profondità ridotta come in questo caso e sto facendo appunto un taglio posso anche decidere di tagliare grazie a questa seconda freccia che mi appare all'interno dello sketch come in questo caso oppure all'esterno e ovviamente avrò degli effetti diversi ricordatevi questa possibilità perché in tante situazioni può essere comoda concludo gli vado a dire nuovamente in questo caso faccio direttamente da schermo con il tasto destro sul trascinatore quindi sulla maniglia gli vado a dire attraverso tutto setto anche qui una conicità che magari setto verso l'interno di 7 gradi va più che bene andiamo a controllare se non abbiamo esagerato ok e confermo la conferma la posso dare anche la conferma l'estrusione la posso dare anche con il tasto centrale abbiamo quindi un oggetto che è doppiatamente sformato perché è fatto da due estrusioni entrambe sformate una con una sformatura in un verso e la seconda con una sformatura nell'altro verso questa cosa la possiamo anche vedere un po' più chiaramente cambiando visualizzazione andando a scegliere una visualizzazione in cui vedo le linee nascoste quindi ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto passiamo al secondo esempio perché voglio mostrarvi altre funzionalità sempre dell'estrusione quindi vado a creare un nuovo file di parte in questo caso non mi preoccupo del nome perché si tratta di un esempio che probabilmente non andrò poi a salvare vado a fare nuovamente un'estrusione scegliendo prima il comando di estrusione e poi dandogli il piano di sketch per definire appunto quella che è la mia figura che voglio estrudere quindi in questo caso prendo sempre il comando rettangolo dal centro lo disegno di una dimensione approssimativa in questo caso voglio trasformare questo rettangolo in un trapezio rettangolo e quindi seleziono questo che è un vincolo di verticalità su questo lato e lo cancello in questo modo non essendoci più quel vincolo posso andare a dargli un'inclinazione a questa faccia che mi servirà poi per mostrarvi un altro aspetto confermo lo sketch sono in questa situazione da qui gli posso dire di fare un'estrusione simmetrica e col tasto centrale confermo l'estrusione ne vado a fare una seconda e ciò mi servirà per mostrarvi altre funzionalità che spesso possono essere utili e interessanti mi accendo però i piani con questo tasto che abbiamo visto anche nel video precedente clicco su estrusione scelgo il mio piano di sketch mi oriento sul piano di sketch cosa che mi fa comodo perché voglio disegnare un ulteriore rettangolo che si aggancia a queste facce tasto centrale cambio un pochettino questa altezza che è forse un po' eccessiva spengo i piani solo per questione di comodità e confermo adesso sono all'interno del comando l'estrusione quindi sono uscito dallo sketch ma posso dirgli di fare un'estrusione fino a un riferimento scegliendo questa opzione nel menu delle diverse tipologie di profondità quindi vi dico al riferimento e scelgo questa faccia come vedete l'estrusione si fermerà proprio in coincidenza della faccia selezionata ma questo mi apre delle possibilità in più che ho a disposizione anche se sono un po' nascoste perché si trovano sotto il menu opzioni sotto il menu opzioni vedo che il lato 1 dell'estrusione è fino a un riferimento che corrisponde alla superficie selezionata appunto ma qui immediatamente sotto posso decidere se fare un'estrusione fino a un offset di quella superficie selezionata oppure a una traslazione che è la seconda opzione di quella superficie selezionata traslazione che avverrebbe esattamente nella direzione di estrusione quindi ho l'offset e in questo caso vediamo una quota che invece mi dà una distanza rispetto una distanza di offset rispetto alla superficie selezionata ovviamente posso dargli un valore positivo o anche negativo cambiando quindi il verso dell'offset ma posso anche dirgli di fare un'estrusione fino alla superficie traslata della selezione e questa è una funzionalità che in varie situazioni può esserci comoda poi quando andremo a fare degli esercizi lo vedremo più chiaramente da qui posso ulteriormente gestire anche il secondo lato dell'estrusione e anche per il secondo lato posso decidere di scegliere fino a dove deve arrivare quindi mi accendo i piani gli dico fino al riferimento scelgo il riferimento in questo caso il piano che sta nel mezzo e anche qui ho le medesime possibilità anche se in questo caso sono perfettamente identiche che sto scegliendo un piano perpendicolare alla direzione di estrusione però gli dico che voglio una quota traslata e tra l'altro in questo caso posso staccare l'estrusione rispetto al piano di sketch confermo spengo i piani per rendervi il modello più visibile e a questo punto direi che ho concluso i miei due esempi sull'estrusione una cosa che forse avrete notato che ogni volta che io vado a fare un'estrusione utilizzo un ordine una sequenza che normalmente non viene rispettata utilizzo una sequenza un po' all'inverso di come normalmente si può pensare vado prima a cliccare sull'estrusione poi scelgo il piano di sketch e quindi disegno lo sketch non vado prima a fare uno sketch per poi estruderlo perché in questo caso avrei con Creo Parametric due effetti diversi che comunque andremo ad approfondire nei successivi video in particolar modo quando parleremo di differenza tra sketch esterni e sketch interni quindi per il momento vi saluto spero che il mio video vi sia piaciuto aggiungete un bel pollicione in su se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale perché vorrò continuare ovviamente ad aggiungere video su questi tipi di contenuti appunto e vorrò continuare a parlarvi di Creo Parametric e delle sue diverse potenzialità un abbraccio a tutti ciao